Questo è il lungomare della zona costiera che va da Pozzuoli a Castelvolturno. Tantissime le attività balneari che offrono servizi nel corso di tutto l'anno. In alcuni tratti però il degrado e l'incuria la fanno da padrona. Tutto abbandonato a se stesso. Sono settimane che è impropriamente parcheggiata sul ciglio della strada un'auto e nessuno ne rivendica la scomparsa. Si trova qui da settimane, è stata bruciata. Non conosciamo ancora i motivi per cui quest'automobile è qui da diverse settimane. Adesso è praticamente diventata una pattumiera ed è qui abbandonata. Non sappiamo chi l'ha lasciata, non sappiamo se quest'auto è servita per una rapina, per un furto o semplicemente un incidente. Intanto è ancora qui e nessuno sa a chi appartiene, nessuno l'ha rivendicata. A breve le attività che insistono sulla fascia costiera si prepareranno alla stagione estiva, anche se nelle giornate di sole e invernali sono tantissime le persone che si riversano sul litorale. Ma in contraddizione con le bellissime attrezzate strutture, fuori lungo la strada che conduce al mare, il degrado. Cosa ne sarà di quest'auto? Resterà lì ancora per molto? Magari creando anche disagi al traffico veicolare che è già solito in questa zona, soprattutto nel periodo degli aperitivi. Domande al momento senza una risposta, un'automobile che potrebbe diventare il simbolo 2020 del degrado dell'unico lungomare senza vista mare.